Il resto sui pagamenti incontanti al supermercato per dare un piccolo aiuto quotidiano e sostenere il Banco Alimentare che in Campania aiuta ogni mese oltre 200.000 persone in difficoltà. Attiva nei punti vendita del Sole 365 l'iniziativa Resto Sospeso, la tua spesa aiuta noi a donare. Gli acquirenti dei supermercati della Campania potranno donare gli arrotondamenti del resto della spesa al Banco Alimentare della Campania. Si tratta di pochi centesimi per il singolo acquirente e l'azienda che però moltiplicato per tutti i clienti e per tutti i 70 punti vendita del Sole 365 in Campania produrrà un grande effetto solidale. I soldi raccolti grazie a questa iniziativa saranno infatti utilizzati dal Banco Alimentare per assistere le famiglie in difficoltà della regione Campania. In modo particolare verranno acquistati nuovi automezzi refrigerati per migliorare la raccolta delle eccedenze alimentari e la successiva redistribuzione a chi ha bisogno. Grazie al supporto di 400 attività convenzionate il Banco Alimentare della Campania aiuta ogni mese oltre 200.000 persone donando pacchi alimentari con genere di prima necessità e sostenendo le menze per i poveri della regione. Con l'iniziativa Resto Sospeso il Banco Alimentare della Campania e la catena dei supermercati 365 continuano la collaborazione iniziata nel periodo natalizio per ridurre lo spreco alimentare e aiutare le persone in difficoltà. Sono tante le difficoltà ma sono tante anche le risposte da parte di tutti e in particolar modo siamo onorati di questa partnership con Sole 365 che ci permetterà attraverso questo progetto del Resto Sospeso di poter incrementare ancora di più le persone da aiutare. Resto Sospeso è un'iniziativa molto semplice, si arrotonda il resto alla cassa, si dona qualcosa a Banco Alimentare, si cerca di portare un piatto caldo a persone che in questo momento sono in seria e grave difficoltà. Come ha detto il Papa da una crisi si esce o migliori o peggiori. Questa è veramente una delle tante occasioni che ci farà uscire dalla crisi migliori aiutando gli altri e sentendoci tutti inunti in questo momento di bisogno.